Perché dietro ad un sogno c'è anche tanto impegno e partiamo, io dico, dall'etame, seminiamo, raccogliamo, trasformiamo e lo mettiamo sul piatto, lo mettiamo nel bicchiere per dare emozioni e ricevere le emozioni. Quindi dietro c'è tanto sacrificio, tanto lavoro, tanta programmazione. Noi siamo partiti da zero, siamo stati pionieri, abbiamo aperto un agriturismo in paese, abbiamo recuperato, ristrutturato una maga ai piedi del Consiglio e ci siamo messi in mostra negli ultimi quattro anni, recuperando anche, acquistando una vecchia osteria sul passo del Consiglio, sul passo della Crosetta. E dietro al nostro lavoro di 365 giorni all'anno c'è sacrificio, c'è sudore, c'è fatica e grazie anche a un lavoro di team, di familiare, di collaboratori, di ragazzi che noi con buon senso e intelligenza corrompiamo e gli diciamo che è bello lavorare, che è bello sudare e magari anche no, però li convinciamo e gli facciamo il lavaggio del cervello da quel lato, in senso buono e loro ci credono, ci vengono dietro e abbiamo molte soddisfazioni. Diciamo che è la donna più grande dell'uomo in questo momento, in questa fase e per me soprattutto. Allora io non era il mio lavoro, era il suo sogno e io l'ho solo aiutato a rincorrerlo, a raggiungerlo anche se non sei comunque mai arrivato e la vita ci ha messo alla prova tante volte e una è anche molto recente, però ho conosciuto Luca che avevo 15 anni e quindi sono più di 30 anni che ci vivo vicino o comunque in fianco. È duro perché ci sono sì tante cose da fare, però lo sa che rifarei qualsiasi cosa di quello che ha fatto e soprattutto perché fortunatamente abbiamo un seguito e un seguito di giovani bravi, ma non solo perché in parte forse assomigliano a noi, ma perché sono bravi di loro e hanno capito che in un mondo difficile devi avere una marcia in più e la marcia in più ce l'hanno quando hai la volontà, la voglia e la possibilità e loro ce l'hanno, hanno trovato i loro spazi con noi.